La confezione di acquisto del TV LCD LC32X20E Sharp Aquas La confezione di acquisto ci è arrivata in questo modo, con il piedistallo con 10 viti o cacciavite da montare Quindi ci appropinqueremo a montare il nostro televisore sul piedistallo per poi poter ricominciare la videorecensione Grazie a tutti Grazie a tutti